Si è tenuta ieri a Pescara presso la sede del CONI il primo incontro con le società che parteciperanno al prossimo campionato della Serie C1 di Calcio A5. Un incontro dibattito che ha toccato diversi punti con presidenti e dirigenti che hanno potuto esporre opinioni e consigli al delegato federale del Calcio A5 abruzzese Alessandro Di Berardino e dal presidente Daniele Ortolano. I dirigenti federali hanno annunciato importanti novità e progetti che ci saranno nel corso della stagione soprattutto verso il settore giovanile dove saranno istituite per ogni provincia delle figure specifiche che si occuperanno esclusivamente dei giovani primi calci, pulcini ed esordienti con tornei organizzati direttamente dai comitati provinciali senza passare più dai comitati regionali. Uno dei momenti più attesi poi è stato il sorteggio della Coppa Italia con il primo turno con andata e ritorno che definirà poi le squadre partecipanti alla final 8. Si inizierà il 12 settembre con le gare di andata mentre le gare di ritorno si disputeranno il 19 settembre.